Buongiorno e benvenuti a questa serie di oggi 19 settembre. Ovviamente il tema fondamentale di queste giornate è il referendum e le elezioni regionali. E la sinistra e il governo hanno un po' paura. Ci sono tantissimi commenti oggi, ve ne segnalo alcuni. Forse il più interessante è una specie di metafora che fa Bruno Vespa, che vi consiglio perché è veramente interessante. Lui dice che quando andai all'Aquila, quando ci fu il terremoto, lui è di quell'area e fu particolarmente colpito. I suoi reportaggi furono particolarmente interessanti perché colpì il cuore degli affetti di Bruno Vespa. Trovai una chiesa del Settecento in cui la facciata era completamente rimasta intatta, nonostante il terremoto, ma dietro era completamente devastata. Una metafora in sostiene Vespa per la quale ci si potrebbe ritrovare il giorno dopo il referendum e i voti regionali del 20 e 21 settembre. Come sapete, Quarta Repubblica 21 settembre delle 14.50 in onda, quindi mi raccomando non perdete. Questo terremoto, secondo Vespa, non avverrebbe se il centrodestra sfilasse le sole marche, un milione di voti, un milione di abitanti al centrosinistra, nonostante abbia vinto gran parte delle elezioni regionali fino a qua. Ma il vero terremoto sarebbe se ne scippasse un'altra delle regioni, o la Toscana o la Puglia, in cui tutti i giornali, guarda caso, ci sono oggi pagina 2, pagina 3, hanno parlato delle chiusure di Emiliano, le chiusure di Gianni a Firenze, ma anche quelli di Susana Ceccardi e di Fitto. Quindi la partita, dice Vespa in maniera molto chiara, è che probabilmente Palazzo Chigi farà finta di non risentire dal terremoto di queste regionali, di questo voto per il referendum, però sarà un gran casino quello che c'è dietro la facciata di Palazzo Chigi. Quindi questo è quello che sostiene Vespa. Dall'altra parte però è da segnalare oggi l'intervista al Cavaliere, cioè a uno di quelli che in realtà è stato più diplomatico in questa fase elettorale e anche preelettorale del governo Conte. Al giornale oggi il Cavaliere dice una cosa un po' diversa, se il risultato fosse chiaro, cioè sostanzialmente dice Berlusconi se il centro-destra vince o la Toscana o la Puglia, o entrambe addirittura, il governo dovrà prenderne atto. Cosa vuol dire che le debba prendere il governo atto? Insomma questo è tutto da vedere, visto che Conte ha questa capacità camaleontica, per cui prende atto soltanto della sua grandissima capacità di governare, secondo lui. La Repubblica sceglie un titolo diverso, cioè l'incognita virus, cioè il fatto che non bisogna sottovalutare che su questo voto ci saranno persone che non andranno a votare, perché in quarantena o perché anziani preoccupati al virus, ci saranno scrutatori che non vorranno andare a scrutare, presidenti di seggio che non si troveranno, potrebbero esserci delle file. Insomma c'è un incognita voto fatta sulla resistenza delle persone che vadano o meno a votare. Vi segnalo in questo parterre di commenti della giornata, sempre sui regionali, quello che è successo ieri è abbastanza significativo perché è normale, e cioè che Di Battista si presenti alla chiusura della campagna elettorale della candidata del Movimento 5 Stelle in Puglia, la signora La Ricchia, questa candidata alla presidenza o consigliera penso passata. E questo, dice Lenzi, è del tutto normale, ma diventa un atto eversivo perché il non detto è che questi, proprio per mantenere la facciata di un palazzo Gigi funzionante, questi grillini, nonostante abbiano presentato i loro candidati, fanno di tutto perché non vincano. Quello che Di Battista sta facendo, secondo Massimiliano Lenzi, oggi sul tempo, in un pezzo che io trovo delizioso perché parla di questa specie di conformismo culturale per cui questa alleanza Movimento 5 Stelle e PD è diventata favolosa, piace da Vasco Rossi e Giuliano Ferrara, dice almeno Di Battista cattivo ma coerente, continua ad andare per la sua strada, se c'è un candidato grillino, vota per il candidato grillino, e non cade in quell'equivoco per il quale il partito che un tempo era di Bibbiano diventa il suo alleato di governo. Insomma, non si presta all'inciuscio del PD. Questo è quello che sostiene Massimiliano Lenzi, ma è anche quello che è obiettivamente avvenuto ieri. L'altro grande tema, ovviamente, è il referendum. Sul referendum, ovviamente, lì c'è il fatto, che è il giornale del Movimento 5 Stelle, che si rende perfettamente conto che può essere la sua grande vittoria, perché l'equivoco di questa storia è che i 5 Stelle perderanno nelle regioni e se non perdono fanno perdere il PD e se fanno perdere il PD fanno perdere il governo dell'amato Conte. Quindi si trova in una trinaglia tremenda. L'unica cosa che possono rivendicare il giorno dopo è di aver vinto il referendum. Quindi la vera campagna la stanno facendo sul referendum perché vogliono fare i fenomeni vinciti al referendum. E Travaglio dice i voti dei padroni sono per il no. Insomma, la sua interpretazione nasce dal fatto che molti giornali, e su questo ovviamente ha ragione, sono e spingono per il no. Beh, non tutti, ovviamente. E lui ti piazza un grande non padrone, Zagrebeschi, che ti spiega che il voto giusto è il sì e poi ti spiega un'altra cosa interessante, cioè che quelli che dicono di votare sì e cioè che vogliono il taglio dei parlamentari non si preoccupano dell'obiezione di quelli che dicono di votare no, che dicono che la rappresentanza territoriale diminuirebbe. E Zagrebeschi spiega oggi sul fatto e chi se ne frega. È un'idea dell'ancien regime, quello che il parlamentare debba rappresentare il proprio territorio. semplifico, ma è la sintesi del titolo di quello che dice Zagrebeschi. Il pezzo più interessante, perché questa volta io lo condivido al 100%, è quello di Antonio Polito, oggi sul Corriere della Sera, che mi dice una cosa semplicissima, che è quella che penso anch'io, che come sapete voto no convintamente, perché penso che questo sia una riforma più che demagogica, sia proprio la ciliegina sulla torta delle minchiate e diciamo riformatrici del Movimento 5 Stelle, sia l'essenza, sia la degna conclusione del vaffanculo, che però l'ha portata al governo. Ma Polito dice un'altra cosa che io condivido perfettamente. Qua dobbiamo smettere di dire a quelli che votano sì, che se arriva il sì è finita il mondo, e quelli del sì che dicono a noi che siamo il partito dei poteri, eccetera. e dice pochi a dire che se vincessero gli altri non si sfascerebbero la testa. E io sono uno di quelli, cioè sono convintamente per il no e secondo me ha ragione Polito di dire che qui non è un'elezione politica, è un'elezione per la riforma costituzionale di questo paese in un dettaglio piccolissimo. Beh, insomma, se dovesse vincere il sì, domani mattina non vado in strada come sarei andato per tante altre cose che sono avvenute negli ultimi mesi molto peggiori di questo referendum. Un posto che secondo me occorre votare no. Beh, fantastica questa roba di Grillo. Perché Grillo, dovete sapere, ha aggredito un giornalista di Rete 4 e i giornali non se ne sono occupati, nessuno se ne è occupato. E se non uno, se non uno, il giornale. Ma oggi che cosa è successo? Il giornale Libero e la Verità è il giornale di centrodestra. Ma oggi che cosa è successo? Che per la prima volta il Fatto Quotidiano se ne occupa. E sapete perché? Perché in sovratestata il Fatto Quotidiano dice ma Grillo dice una spinta senza cadute trasformata in terribile aggressione dice il Fatto. Cioè il Fatto dice che avete esagerato, voi direte quattro, ma quale aggressione? È stata una spinta senza cadute. Insomma, quello è accaduto. C'è cinque giorni di prognosi e quando cadono quelli di destra o non di sinistra o non grillini, perché questo giornalista non so manco di che partito sia e non me ne fotta assolutamente nulla, quando cadono attaccati da Grillo che gli dà una spinta, beh, allora chi se ne frega? Toc, toc! E' chiaro? Vi è chiaro quale ragionamento? Questi sono matti proprio dalle gare. Ma comunque, è la solita storia, diciamo, del doppio standard, questa cosa stupenda del fatto che per le volte si occupa di quell'aggressione, dice ma avete esagerato dopo tre giorni, quattro giorni. Vabbè, riprende il calcio, riprende il calcio, in senso che si è già ripreso, però il calcio può riprendere con mille spettatori e ci saranno, alla partita di Parma-Reggio, grande Bonaccini far entrare mille spettatori, spero che ci siano anche per i finali degli internazionali di tennis, penso che si possa riprendere col distanziamento e andare a vedere gli spettacoli all'aria aperta, mi sembra una follia che questo non ci sia, ma nel giorno in cui c'è il massimo dei contagi in Italia, 2.000. Allora, io mi chiedo e vi chiedo, ma che cosa sta succedendo nella stampa italiana dopo che è aperta la scuola e il governo deve farla funzionare a tutti i costi? Prima, con mille contagi in Sardegna, c'era il picco dei contagi, adesso stanno aumentando i contagi, stanno aumentando sulle persone più anziane, quindi molto più pericoloso perché sui ragazzini non serve assolutamente, non fa assolutamente nulla, sugli anziani qualche rischio ce l'ha, ma i giornali se ne strabattono e riapriamo gli stati! Io sono contento, sono felice, è bene riaprire gli stati, bene riaprire la vita, bene pensare che si debba convivere con questo virus, ma cosa è successo nella comunicazione che abbiamo raddoppiato i contagi rispetto a 20 giorni fa, ma adesso non vengono più dalla Sardegna e quindi non sono più titoli di prima pagina dei giornali e ora possiamo riaprire gli stati che non potevamo fare 20 giorni fa nel momento in cui c'è il picco dei contagi mai visto negli ultimi mesi in Italia, bene che lo facciano, ma vi rendete conto che c'è una comunicazione schizofrenica? Oggi ho letto sulla Repubblica che ci sono 13.000 nuovi malati in Francia, poi ho visto Le Figaro, ho visto Il Mondo, ho visto i giornali francesi, ho visto Lanza, ho visto la DN Cronos, ho guardato, non ho trovato questo dato, ho visto che ieri sono stato un picco dei nuovi positivi che sono 10.000 nuovi positivi in Francia, non vorrei che Repubblica abbia confuso, oggi sulla prima pagina del giornale, i nuovi positivi con i malati, perché questa è una cosa che già fece il Corriere della Sera due settimane fa ed è quella specie di terrorismo virologico sulla quale i virologi godono molto, ma facciamo una totale disinformazione. Quello che c'è è che il messaggero oggi ci spiega che c'è un'ipotesi zone rosse, ovviamente nelle zone in cui fossero più contagiate. Nel frattempo il ministro delle regioni, Boccia, anche lui oggi molto più prudente rispetto al passato, ci dice che è da escludere un nuovo lockdown, toc, toc, l'inchiesta sulla Lega che fine ha fatto? Beh, ovviamente viene tenuta accesa da un solo giornale, dalla stampa, che ci dice soldi allo staff di Salvini, l'apertura. Tra l'altro è fantastico perché lì neanche fingono l'apertura della stampa è un'apertura elettorale, arrivano le regionali, il referendum, il rischio toscana che vinca la destra, il rischio puli, eccetera, e lì ti piazzano l'inchiesta sulla Lega. Ve lo dico io, questa inchiesta sulla Lega con tutte queste notizie che stanno arrivando ora sono fatte esattamente perché in campagna elettorale si pensa che si possa dare fastidio a quelle due ragioni, soprattutto la Toscana, in cui il voto è molto vicino tra l'una coalizione e l'altra e questi se la fanno sotto. Grande notizia internazionale e cioè che l'America chiude TikTok e WeChat, WeChat è una chat di discussione pure ma anche di pagamenti in America ma soltanto 3,5 milioni di persone la usano ma in Cina si può usare solo WeChat e non si possono usare quelle americane e nel frattempo l'America vuole chiudere anche TikTok, non la chiude ma sostanzialmente impedisce agli americani di scaricarsi TikTok e se dovessero arrivare degli aggiornamenti di aggiornarsi. Ma lì però sono 100 milioni gli americani che la usano i balletti io l'adoro TikTok e tra l'altro TikTok doveva essere comprata in America e strutturata sull'infrastruttura di Oracle azienda super americana. Beh, che cosa sta succedendo? I giornali non ve lo spiegano bene perché vogliono sempre dare la notizia senza spiegare il contesto ed è un classico soprattutto se dietro c'è Trump. Operazione che a me non piace ma operazione che però ha un grandissimo senso perché è una ritorzione più o meno comprensibile più o meno giusta rispetto a quello che fanno i cinesi nei confronti dell'applicazione americana e soprattutto sui dati che i cinesi utilizzano attraverso questi social e che sono dati che non seguono le regole accettate universalmente. È una partita davvero importante questa che noi sottovalutiamo e releghiamo lì nelle pagine 20 dei giornali senza spiegarle bene leggendole sempre in chiave trampiana ma invece questa è grande sfida del futuro perché la grande sfida del futuro non è fatta solo di armi anzi è fatta poco di armi ma di dati e di obbligazioni che ce le ciucciano controllate da governi stranieri va bene? E questo vale anche per quelle americane che controllano i dati europei by the way. Beh direi che per oggi tutti sono a Pistoia in una città stupenda che non conoscevo dopo ieri ho presentato le tasse invisibili ringrazio quella straordinaria piazza e gli organizzatori della serata di ieri io vi dico soltanto che adesso si deve tornare a Roma perché tra oggi e domani si lavora per lunedì le elezioni Quarta Repubblica al voto dalle 14.50 fino alle 2 di notte cercheremo di spiegare se fa 3 a 3 4 a 2 5 a 1 o 6 a 0 che mi sembra piuttosto impossibile visto il grande vantaggio che De Luca in campagna ciao